Ciao, astronomi! Quando ci siamo cercati di un liceo polluto di liceo di liceo di liceo, non abbiamo soltanto alcuna potenza disponibile quando dobbiamo andare con il nostro telescopio. E già che il telescopio di astrofotografia è composto di molti dispositivi che potrebbero necessarare potere, scoprire la batteria corretta è critica per permettere di usare il nostro telescopio tutta la notte. Tutta la notte! Grazie alla distribuzione di potenza ai vostri dispositivi 12 volt, potenzialmente necessarai una sola batteria per poter portare il tuo telescopio. Quindi puoi creare una batteria di feed yourself, o puoi cercare di un sistema di batteria per comprare. Abbiamo contattato con EcoFlow, una compagnia specializzata in stazioni di potenza di potenza di alta capacità, di potenza di potenza di potenza. E abbiamo testato la loro linea di batteri smart, chiamato River, per vedere se possono migliorare la portabilità del telescopio Eagle. River è una stazione di potenza di potenza di potenza che integra le batterie in alto capacità di lithium, quindi sono più compatte e leggermente che una batteria di 12 volt standard di potenza di potenza di potenza di potenza comparabile. Potresti spiegare a te, perché la Prima Luce Lab raccomanda questa batteria di più di altri sul mercato? La nostra raccomandazione è basata sul porto di potenza di potenza di potenza che offrono. Non è semplicemente raccomandato a 12 volt, ma in realtà è 13.3 volt, e questa è la soluzione perfetta per portare il cibo di potenza, che è inclusa con l'eagle. In effetti, perché della architettura della distribuzione di potenza in l'eagle, quando potenziali molti dispositivi, devi prendere in considerazione una piccola di potenza di potenza che riduce l'ultimo potenza al porto di potenza di potenza. Per esempio, se connessi l'eagle a una batteria con un output di esattamente 12 volt e l'eagle ha di potenza di potenza di potenza, il potenza di potenza di potenza del cibo si può voltare a meno di 12 volt e se il potenza è più di bassa di 11.6 volt il cibo ci potrà automaticamente fornire e involte di potenza per sicuramente. Sì è di quello che l'adaptostante l'eagle inizia di potenza di potenza è risolto a 12.8 volt. Se vogliamo evitare una batteria, è necessario avere un potenza di più di 12 volt. Questo rende la scena di potenza di potenza di potenza del cibo di potenza del rivero, un perfetto match per il nostro telescopio di potenza dell'Eagle Power. Vi faccio mostrare. Quando avviso i porti di potenza nell'Eagle Manager e attivo la calcio camera, potete vedere che il volto dell'Eagle resta above 12V. E, se il rivero usa batterie di liti, il volto è molto stabile fino a che la batteria è completamente dischargata. Quindi la tua fotografia di rastrofotografia funziona correttamente per l'entrata della vita della batteria. Un'altra cosa utile per la fotografia di rastrofotografia è la la vita della batteria di rastrofotografia basata sulla consumazione di potenza reale. Potete leggere nel pannello fronte della stazione di potenza rivero. Ovviamente potete comprare questo con i dati di potenza di potenza disponibili in l'Eagle Manager, ma il display ti permette di avere un velocello del status batterio anche senza essere collegato alla vostra connessione di desktop. Qui a Prima Luce Lab abbiamo testato il model rivero con capacità di 288 Watt, che, per considerare un telescopio con connessione di potenza di potenza di potenza di potenza dovrebbe aiutare circa 4.5 ore di vita. Si pesce 5 kg. Il modello più grande River Pro, con capacità di 720 Watt di potenza, aiutare circa 10.5 ore di potenza di potenza con la stessa potenza di potenza di potenza. Si pesce 7.3 kg. Le due batterie possono migliorare la tua portabilità del telescopio, quindi è un perfetto match per la vostra connessione di fotografica di astrofotografia. Per più contenuti che aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... CLEAR SKIES!